E ciao a tutti e mi ci sono sempre voi e benvenuti in questo nuovo episodio di City Skylines Allora, nello scorso episodio ci siamo lasciati con la ricostruzione totale della zona industriale Allora, quello lì ovviamente era uno dei tanti test che ormai mi sto ritrovando a fare Come potete vedere ho rimosso tutto il layout perché non mi convinceva semplicemente Non abbiamo risolto i problemi del traffico Quindi cosa ho fatto? Ho letto ovviamente quello che mi avete scritto Mi avete letto che più o meno le rotonde sono posizionate bene E questo mi fa molto piacere Quello che faremo oggi sarà provare svariati layout e vedere come funzionano Ovviamente sarà un lavoro lungo e tedioso quindi cosa ho deciso di fare Queste parti qua sono io che semplicemente vi dico cosa farò, cosa proverò E le parti successive sarò io che velocemente sostanzialmente metterò su il layout Non abbiamo problemi di soldi, tanto meno di popolazione Quindi noi semplicemente lo mandiamo avanti Io proverò più layout e vediamo quale è il risultato migliore Ovviamente non è che mi sta piacendo tanto buttare troppo tempo sulla zona industriale Ma voglio che sia fatta bene Perché come potete vedere la zona residenziale ormai è bella che fatta Cioè l'unica cosa che potremmo fare sarebbe migliorare questa zona qua Ma per ora non lo faremo Quello che faremo adesso sarà concentrarci su questa zona industriale e poi vedremo La prima cosa che vi dico già che ho fatto è stata dividere le due stazioni ferroviarie Questo perché probabilmente tutte e due su una sola strada causavano non pochi problemi alla viabilità Quindi ho deciso di rimuoverla semplicemente Inoltre mi avete consigliato di controllare bene utilizzando la TMPA Se non erro Fatemi controllare Dovrebbe essere... Eccolo qua TMPA sì Mi avete detto di utilizzarla per controllare bene le rotonde Assolutamente lo farò E spero bene Quindi come primo layout Beh adesso ci sono ancora un po' di strutture che non sono state rimosse scusate Via 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 Come primo layout ne proverò uno che sostanzialmente alterna le strade secondarie Sostanzialmente una strada entra, l'altra invece esce Una entra, l'altra esce E magari alcune prima di uscire totalmente si mettono in altre strade secondarie più grandi Questo per ridurre la pressione del traffico sulle strade stesse Spero vada bene E direi che lo proviamo subito Quindi via con il timelapse E direi che lo proviamo subito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, allora, ho un primo layout, è molto semplice, ho fatto più tipologie. Vediamo di guardarle al volo tutte. Ho utilizzato delle strade doppie, quindi due corsie, ma a senso unico. Ho fatto una corsia, come vi dicevo, una corsia che entra, l'altra che esce, una che entra, l'altra che esce, soltanto che l'ho legata sostanzialmente una all'altra, scusate ho colpito il microfono, una all'altra passando per la strada centrale. Spero di aver fatto bene, poi lo vedremo ovviamente. Qua ho voluto provare un'altra disposizione stile lisca di pesce, mentre qua ho provato quell'altra cosa di prima che vi dicevo, cioè fare delle strade secondarie che prima di mettersi nella strada principale vanno a sboccare in una strada secondaria, un po' più grande. In questo caso la strada secondaria ha quattro corsie, quindi si passa da due corsie a quattro, speriamo bene. Ho fatto la stessa cosa sostanzialmente, solo che da queste corsie si lega a questa principale, mentre da queste si lega a questa principale, che poi arriva alla rotonda. Speriamo bene, io adesso faccio partire e vediamo subito un po'. Teoricamente tutti questi camion dovrebbero sparire, perché non c'è più l'industria di prima. Ho dovuto anche abbassare le tasse perché c'era un po' un problema. E direi che... Facciamo partire a manetta? Facciamo partire a manetta, sì. Dobbiamo soltanto aspettare, ecco qua, che costruiscano. Abbiamo speso praticamente quasi metà del capitale che avevamo. Dovrei aver iniziato circa 500.000 soldi, scusate. Ok, io direi che subito andiamo a vedere qua. C'è ancora tanto traffico che però è inflazionato dal... da quello di prima. Ok, vedo che più o meno per la città non è male, qua che è un po' un pesantuccio. Come ce lo colleghiamo? Ce lo colleghiamo in questo modo, per ora. Facciamo al volo una strada secondaria, credo. Magari normale, così, sì. Così che vadano di qua, ad esempio così. Come vedete ho rimosso tipo tutti gli accessi, o comunque tutte le zone residenziali, scusate, industriali vicine alla strada. Perché voglio evitare che si fermino qua per scaricare, ad esempio. Ma credo che per il resto i servizi funzionano bene, non vedo grandi problemi. Beh, a parte l'acqua quando ce la dimentichiamo, sapete. Beni basilari. Oh, bene, ne siamo collegati. Adesso possiamo iniziare a vedere un po' di cose. Prima di tutto... Eh beh, prima di tutto cosa? Non abbiamo questo... Eh, non abbiamo tutte queste cose qua di traffico. Non abbiamo queste informazioni. A parte che stanno sfornando tanti di quei camioncini. Voglio vedere un attimo qua alcune cose. Nooo, ma che cos'è? Ma che cos'è? Ok, bisogna controllare subito qua. Change lane arrows. Lane 1. Ma perché? No. Assolutamente, una volta che siete in rotonda non potete uscire. Questa qua è a senso unico, quindi non c'è bisogno. Queste qua servono... Queste strade qua servono principalmente per... Per aggirare la rotonda. Ok, quindi... No, non in rotonda. Ma... Dritto e destra. Ok. Stessa cosa di qua. Dritto e destra. Dritto e destra. E dritto... Destra. Ok, vediamo se ha un po' più di senso. Più o meno, sì. Si incasinano un po', però come potete vedere, quelli che vanno in rotonda... È perché saltano un'uscita e poi escono. Eh, ci va un casino di preparazione qua. Anche se so che è questo che mi avete consigliato di fare. Adesso vediamo, adesso vediamo. Perché devo seguire effettivamente la str... Sai che avete qua che vi fermate? Ah, ma quindi se devono uscire... Cioè se devono andare da questa parte sono lenti qua. Fatemi togliere le strisce pedonali, che tanto non servono. Com'è che si rimuovono? Junction Restriction. No, non si passa. Ho cliccato la cosa sbagliata. Eh, ma quindi come faccio a rimuovere le strisce pedonali? Junction Restriction. Qua non ci sono... Non ci possono passare i pedoni. Perché siamo in una rotonda e quindi ha senso. Cosa succede qua? Di qua voi non potete andare a sinistra. Deciso. Di qua voi non potete andare solo a destra. Dritto non so cosa voglia dire, sinceramente. Mentre voi di qua... No, voi di qua potete andare solo dritti. Qua non so cosa voglia dire, sinceramente. Credo sia dritto, dritto e sinistra. Che ha senso. Dritto, dritto, sinistra, sì. Va bene. Qua solo dritto. Qua solo destra. Qua invece solo destra. Va bene. Quindi voi dovete andare solo dritti. C'è parecchia pressione. Per il traffico. Oh, capito. Qual è il problema? Le persone che devono andare dritte qua intasano un fottio. Se riuscissi a far passare, ad esempio, le persone che devono andare dall'altra parte... Ok, ce l'ho. Di qua non potete andare a sinistra. Basta. Niente a sinistra. Mi dispiace. Solo dritti. Decisamente meglio. Però ha senso, cioè... Loro vanno di qua... Com'è che fanno ad entrare in autostrada? Com'è che fanno ad entrare in autostrada? Vanno di qua e usano la rotonda. Com'è giusto che sia. Fatemi fare la stessa cosa. Ah, aspettate. Prima di tutto dobbiamo vedere se effettivamente ha funzionato. Altro che... Fatemi vedere... Cioè, no. 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 Non facciamo boiate, per favore. Cioè, almeno non troppe. Ok. Vediamo il traffico. Il traffico a me sembra abbastanza regolare. Ce n'è tanto, ovviamente. Però mi sembra abbastanza regolare. Inoltre qua è abbastanza pesantuccio. Ma devo vedere i sensi unici. E poi qua. Qua ce n'è un casino. Il fatto è... Tanti camion escono di qua. Per qualche ragione. Quindi arrivano di qua e dicono... Vabbè, dai, sì, è comodo, andiamo dritti. Mentre di qua non escono, praticamente. E questo ci intasa non soltanto questa zona che è a bassa pressione. O a basso flusso. Ci intasa anche quella della città. Perché se adesso vado a vedere, appunto, qua c'è una... C'è un qualche problemino. Quello che non ho appena risolto è... Vabbè, qua e qua. Quindi andiamo subito a vedere com'è la situazione qua. Ok. Quindi credo sia fatto, più o meno. Ci spero. Il problema è che si fermano comunque perché vedono le strisce pedonali. Però io non posso rimuovere le strisce pedonali se non erro. Allora, chiaramente uscire di qua non è un problema. Perché potrebbero prendere la strada. Sono quelli che devono andare da questa parte. Quindi. Se questo è il problema... Io credo farò una cosa che avevo già fatto nello scorso layout. Cioè faccio delle strade che vanno dritte, semplicemente. Ignorano la rotonda. Perché vedete? Non la sanno utilizzare. Non la sanno utilizzare. Ehi, si fermano. Per fare una svolta si fermano. Mentre qua dovrebbero semplicemente andare dritte. Cioè dovrebbero andare e basta. E che credo sia colpa dei pedoni. Quindi. Vediamo se ho capito bene. Se io adesso andassi a rimuovere sostanzialmente le... Guardate anche qua. Devono fare la rotonda, semplicemente non la fanno. Ma scusate. Perché effettivamente ora mi state facendo un penino incazzare. Allora. Voi dovete fare... C'è un'uscita normale. È un'uscita normale. Io non capisco. Quale sia il problema. Fatemi vedere un attimo se è questa. No. E qual è? La one way? Or another? Ok. Quindi ora si va a vedere subito una cosa. Ad esempio se... Ecco, dato che qua siete degli imbecilli praticamente... Qua voi potete andare... Sempre dritti. Ok. Ma qua l'unica cosa che potete fare è... Ma, è giusto. Eh, ma questo non ha senso. Ok. Va bene. Sì. Ok. Va bene. Teoricamente. Teoricamente. Uh, casino qua. Eh, bella pesante adesso sta strada. Cioè, questi entrano in rotonda per poi uscire subito dopo. Ma c'è la strada apposta. Mi dispiace ma le dobbiamo fare in questo modo. E sostanzialmente i camion se vogliono arrivare di qua... Devono uscire effettivamente di qua e rientrare di qua. Questa strada ha una capacità molto più alta se non erro. Credo. Spero. Questa è una... Sixteen? No, è troppo. Una four lane mi serve. Four lane with medium. To support medium traffic. Ok, sì. Allora è già questa. Va bene. Ok. Il grosso del traffico è ancora qua. Perché le persone non sanno usare la rotonda. E ma io non posso vietare l'uscita di qua. Perché se no tutti poi prenderebbero questa uscita e basta. Perché voi di qua a destra non ci potete andare. Ma se uscite dovete andare solo dritti. Ok. Teoricamente adesso... Fanno le cose giuste. Uh, bene. Ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. Fanno le cose giuste. Ok. Non so perché entrano di qua e continuano dritti di qua. Quando possono usare la rotonda. Vediamo di controllare bene questi nodi. Cioè se sei di qua l'unica cosa che puoi fare è uscire. Boom. Basta. Ecco, sì. Questa cosa qua devo fare. Che se sei in questa zona l'unica cosa che puoi fare è uscire. Tu prendi le secondarie. Queste qua. Solo per uscire. Non per altro. Qua nemmeno puoi uscire. Cioè, capite quanto sono strutti. Però funziona bene adesso, credo. Infatti, sì. No. Guardate qua la mole di traffico. Che però va dritta. Va dritta. Non c'è nessun problema. Comunque qua è assurda. Cioè, quattro senso unico non ha senso. Si muovono molto velocemente, però non ha senso. Ok, adesso qua è incasinatissimo. Perché si fermano tutti qua. Proviamo a collegare i nodi. Gliel'abbiamo già fatto, sostanzialmente. Di qua potete solo uscire. Anche qua facciamo che possono solo uscire. Sì, certo. Potete usare tutte le corsie che vi pare, però. Ok, se siete di qua potete uscire soltanto. Mentre se siete qua potete solo andare dritti. Va bene. Questo è un lavoraccio, comunque. Ok, allora. Ho deciso di fare un cambiamento al volo. In termini di viabilità. Voglio fare una sopraelevata centrale. Proviamo lì così. So che si creerà un incrocio, ma... Vediamo se magari può funzionare. E so che stiamo anche andando a rimuovere un po' di industria, ma fa niente. Torniamo al nostro traffic flow. Ok, allora. Anche di qua è bello pesantuccio. Perché sono pochi quelli che devono passare da questa parte. Cioè che devono andare dall'altra parte, scusate. Dritti dalla rotonda. Ma io gliela faccio lo stesso la strada. Il layout non è il massimo, ve lo dico. Adesso voglio capire perché questa zona qua è pesante come traffico. Prima di tutto. Questa qua, di strada, la facciamo quattro corsie, doppio senso. Perché non vedo il motivo per cui non possa funzionare. Magari aumenta un po' troppo il traffico nella rotonda, quello sì, lo capisco. Ma io credo che ci siano le strade abbastanza... Scusate, capienti. Non capisco perché non le utilizzino. Nessuno utilizza questo svincolo autostradale. Allora lo dobbiamo avvicinare per forza. Ma sapete cosa? Lo tengo per un altro episodio. Sì, perché adesso sono già un bel po' di registrazione. Nel prossimo episodio cerchiamo di avvicinare questo svincolo autostradale. Quindi facciamo pam, così, dritti. Tutto questo lo cancelliamo. Andiamo dritti. Facciamo che i camion scendano direttamente qua. E forse proveremo un altro layout. Ci proviamo, ci proviamo. Io direi che termino qua. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento, come al solito, aiutandomi, dando mi più consigli possibili riguardo alla città. E un bel layout per le industrie. Mi raccomando, fatemelo sapere. Il vostro feedback è estremamente importante. Io, come al solito, sono Gold. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. E ci vediamo con i prossimi video. Bye, bye.